Musica Bella a tutti ragazzi, eccoci qua, nuovo video in attesa del ritorno della super host ovvero quando torna Joe il 15 così poi inizieremo di nuovo a reccarla sono nel server di Anime Craftlandia che come sapete collaboro anche con loro e con loro, io sono il founder praticamente e niente, siamo qua, vi faccio vedere un attimo com'è, giusto un girettino di prova e vi lascio di più in descrizione così passate a trovarci questo è lo spawn, ragazzi comunque saluto intanto Gans, mio fratello che è qua che gira davanti c'è Gans P e c'è anche poi il fraccio di Gappo nascosto da qualche parte ma non ho l'occhio ah, ciao Gappo e comunque niente siamo qua, facciamo un giro lo spawn, vi faccio vedere ragazzi per chi non l'avesse mai visto passate a trovarci, date un'occhiata al server mi direte un po' cosa ne pensate se avete idee, se avete qualcosa, quello che volete potete lasciarmi tranquillamente in descrizione se avete qualche idea, qualche consiglio qualcosa di figo allora andiamo al Warp PvP così vediamo morire Gabbo malamente allora, andiamo al Warp PvP Sì, vabbè, una Gans che vi diamo andare a botte, vedete, già mi vogliono picchiare a me ma ovviamente a me non mi picchiano allora, vai vogliamo, vogliamo vogliamo ok, andiamo qua sopra e li guardiamo entrare tra un attimo vedete che c'è Gans dietro la porta pronto a accedere c'è anche posso volare ragazzi, sapete chi è eccolo mio fratello che è entrato ok, stalkeriamo Gans vediamo cosa combina io l'ho morto ok, ha raggiunto uno attenzione Gans a botte a botte con God Slayer attenzione l'ha messo all'angolo vediamo, vediamo, vediamo vediamo, vediamo ce la farà, ce la farà, ce la farà ce la farà attenzione ha mangiato una mela d'oro mio fratello rischia in questo momento è stato sbattuto indietro attenzione, attenzione l'hanno meneo all'angolo è morto è morto è morto è morto ho perso il mio fratello ragazzi è già morto povero intanto facciamo un giro vediamo chi c'è oh, c'è un armin ciao, beh e niente Gabbo invece sta già morendo poverino non ha neanche una piccola armatura è morto tragicamente e malamente comunque c'è anche Yavo in giro e ciocco campanile se lo vedete in giro vi faccio salutare a tutti e niente questo è il server ragazzi qui solamente ovviamente la zona pvp non vi faccio vedere tutti è solo un video presentazione di due secondi giusto per per farvi fare un salto e dare un'occhiata comunque passate a trovarci poi tra poco ci saranno molte 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 novità quindi venite a trovarci più in descrizione per la super rossa e non vi preoccupate la faremo a brevissimo scusate il ritardo se avete visto il live di ieri anche di lui sapete delle altre novità del network eccetera quindi basta che dire Gabbo vuoi aggiungere qualcosa? no posso così mi frega un cazzo come al solito ragazzi vedete Gabbo c'è GG sempre no? compagnia utilissima nei video no scherzo grazie grazie comunque niente dai passate a trovarci vi aspetto qua se mi cercate mi trovate in giro per vari server molti server comunque un abbraccio a tutti ragazzi grazie mille e continuate a seguirmi e a presto per nuovi video giocosi mentre giochiamo bella a tutti ciao ragazzi grazie a tutti